Oggi ragazzi box a prova d'urto e a prova di schizzi. Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati a un nuovo video del Santone dello Svapo. Oggi torniamo a parlare di smoke con Scar P3. Scar P3 è una pod mod IO che differisce dalla P5 solamente perché nella P5 potete mettergli la batteria e qui invece l'avete integrata. Come vi ho detto a prova d'urto, a prova d'acqua, quindi sicuramente il suo pregio è anche la robustezza. Ora andiamo a vedere da vicino, poi prova di svapo e considerazioni finali. Ecco qui ragazzi la scatola della Smoke Scar P3. Vediamo una foto del prodotto sul fronte della scatola. I P67 carica veloce tramite USB-C, due coil a mesh fino a 80 W di potenza e batteria integrata da 2000 mAh. Esiste anche la P5 e la P5 di diverso ragazzi ha semplicemente il vano per la batteria e potete inserire una vostra batteria 18650. Sul retro della scatola leggiamo il contenuto del kit, delle avvertenze, i vari marchi e al di sotto abbiamo scratch and check con QR code. All'interno della scatola troviamo la carta di garanzia, il manual utente, la mod, una pod in più e il cavo di ricarica USB-USB-C. Ora vi faccio vedere la pod non installata, le dimensioni e la capienza sono uguali all'altra, cambia la coil all'interno, 5,5 ml di capienza e qui ragazzi si monta una coil RPM Mesh da 0.4 Ohm 25 Watt. Come potete vedere ragazzi le coil hanno il verso quindi va inserita all'interno in questa maniera, vedete che ci sono i due dentini, al di sotto abbiamo i magneti. Inoltre su questo possiamo leggere RPM mentre in quello preinstallato possiamo leggere RPM 2. Ora vado a toglierlo, qui abbiamo anche questa pellicola da eliminare e andiamo a vedere la resistenza. Resistenza già leggermente diversa, sempre a mesh all'interno ma da 0.16 Ohm, da 25-50 Watt, best 40 e anche l'indicazione del minimo del liquido. Anche qui ragazzi stesso discorso, non ci sono i dentini ma si può capire che la coil va inserita in questa maniera qua. Ok, quindi le parti piatte verso i magneti. Questo qui è l'attacco della pod con i quattro magneti e i due pin, come vi ho detto ragazzi i P67, ovviamente anche qui è antiurto e al di sotto possiamo vedere che bisogna togliere questo per andare ad inserire la presa USB-C e andarla a ricaricare. Come finiture ragazzi non è il top, vi dico la verità, perché qui vedete che c'è questo piccolo bordo, vedete mar rifinito, dove possiamo vedere la plastica fatta in quella maniera. Insomma questa non è una cosa che onestamente mi piace, però vado a togliere la pellicola dal vetro. Prima di farla partire vado a riempire il tank, per riempire il tank bisogna tirare su questo pezzettino di plastica, andare a stappare, tenerlo alto in questa maniera e caricare. Una volta caricato si va a richiudere e lo possiamo andare a montare sulla mod. I magneti ragazzi tirano molto bene, su questo non ho nulla da obiettare, però vedete purtroppo questi sono dei difetti di finitura che sono veramente inguardabili, vi dico la verità, cioè è proprio un grandissimo difetto questo dal mio punto di vista, non mi piace assolutamente. Comunque ragazzi con 5 clic si accende, SCAR P3 è la versione del software, vedete che abbiamo la batteria al 95%, come vi ho detto 2000 mAh integrati, andiamo da 5 watt con incremento di 1 watt alla volta ad un massimo di 80, al di sotto abbiamo i volt, gli ohm, i secondi e i puff. Io ora mi andrò a sistemare ragazzi all'intorno della cinquantina. Con 3 clic su tasto fire andiamo a bloccare, vedete, power locked, con 3 clic sblocchiamo, premendo tasto più e tasto meno andiamo a bloccare i watt, vedete che se vado a rispingere più e meno mi dice che sono bloccati. Ripremendoli andiamo a sbloccarli, premendo tasto meno e tasto più assieme possiamo scegliere se andare a azzerare il contapuff. Invece premendo tasto più e tasto fire andiamo a cambiare i colori del tema della box. La box ragazzi è lunga 110.3 mm per 23.3 larga 27.84 e ha un peso di 105 grammi. Ora ve la faccio vedere per l'ultima volta ragazzi, a parte questo difetto, vi devo dire che il resto, anche se è plasticoso, non è fatto male. Però purtroppo un difetto del genere su questo bordo di plastica per me se lo potevano assolutamente risparmiare. Vabbè, al di sotto ragazzi vedete che abbiamo anche i marchi, il tappino, per quanto sia poi questa plastica inserita bene, questo pezzo qui dorato lucido dà un po' un senso di plasticoso ma insomma si sopporta, non è niente di grave ragazzi. La cosa che veramente non riesco a farmi andare giù sono questi difetti, vedete queste puntine qui che si vedono. Comunque ragazzi, questo è tutto per la vista da vicino, noi adesso andiamo alla prova di svapo e alle considerazioni finali. Ragazzi, tutto sommato un prodotto che funziona bene per quanto riguarda l'aroma, mediamente bene. Per quanto riguarda la gestione delle batterie, insomma, sono a 40 watt, la batteria sta andando giù, diciamo nella norma, quindi non è che abbia delle performance al di sopra della norma, diciamo che è standard. Box che sarebbe perfetta dal mio punto di vista se non per un problema legato all'estetica e alla manifattura, tra virgolette, perché non è che è fatta a mano, è fatta in serie. Però ragazzi, è povera di finiture, veramente, è povera di finiture, è qualcosa che sembra proprio cheap, è un po' plasticosina. Non so dirvi effettivamente quanto questo poi potrà ripercuotersi nella sua durata effettiva, ok? Però qui si vuole entrare in concorrenza con un mercato ben preciso. Sappiamo chi è che fa le box i P67. Le fa una marca molto famosa, andate a vedere i miei video per capire quale. Loro hanno delle finiture che sono perfette. E soprattutto tutti i loro diretti competitor in queste fasce di mercato hanno delle finiture che sono perfette. Per lo meno uno o due, diciamo che se la cavano molto bene. Dal mio punto di vista è una caduta di stile entrare in questa fascia di mercato con i difetti che ha questa a livello di finiture. Cioè non riesco, ragazzi, a mandarli giù perché potrebbe essere veramente una gran bella box. Ma questa cosa qua me la fa sembrare uno di quei giocattoli che si regalano ai bambini ma che gli regali per non voler spendere tanto perché sai che dopo tre giorni li butteranno via. No, io qui mi sono fatto un po' una cultura con i miei nipoti riguardo a questa cosa. Cioè è inutile che gli compri una roba da centinaia di euro perché tanto magari gli piace di più quello che costa un euro e mezzo e è fatto da schifo. Quindi tanto vale investire su qualcosa che magari gli può piacere. Adesso lasciando stare il discorso regali ai nipoti però era solo per farvi capire la sensazione che dà. Ok? E questa cosa mi dispiace perché il prodotto ragazzi in sé funziona bene. Quindi personalmente per le finiture andrei su altro. Per la funzionalità se dovessi svapparla occhi chiusi andrei anche su questa perché bene o male è alla pari dei suoi competitor, ok? Come come resa. Anzi vi dirò ragazzi che l'aroma è anche buono e il circuito fa quello che deve fare. È chiaro ragazzi siamo sempre davanti ai prodotti cinesi non vi aspettate rese da dna o da circuiti di un certo livello. Insomma è una roba che per quello che l'andate a pagare sicuramente svolgerà il suo lavoro per il tempo che lo deve fare. Quindi a voi la palla. Volete le finiture perfette? C'è altro. Però qui dovete proprio vedervelo a voi. Se siete il fighetto come me... Insomma. Insomma. Se siete quello che si accontenta perché tanto dite vabbè ma io la devo usare in officina. Magari la rovino. Magari di qua. Magari di là. Allora ci sta. Però ragazzi dal mio punto di vista un'azienda ha queste cose qui. Ci deve guardare. Non si può far scappare delle robe del genere. Insomma. Sa un po' di pressapochismo per quanto riguarda le finiture. E da un certo punto di vista non dico mancanza di rispetto nei confronti del cliente. Però insomma anche la forma per me ragazzi ha la sua importanza. Soprattutto quando siamo con dei prodotti che mediamente ragazzi nel mercato stanno funzionando tutti uguale. Ok? Sono onesto. Quindi ragazzi a voi la scelta. Fatemi sapere nei commenti se vi va bene con le finiture così. O volete magari il prodotto che nonostante sia cinese abbia le finiture perfette. Insomma ditemi la vostra. Tiriamone fuori una discussione che magari può diventare interessante. Io vi ringrazio. Vi saluto come al solito con l'ultima svappata. E che lo svapo sia con voi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ah ah ah!